siamo al canto ottavo del paradiso dante entra nel terzo cielo che è il cielo di venere dove viene celebrato l'amore ma non l'amore sensuale ma la carità l'amore inteso come servizio e un servizio che si apre alle necessità di chi ha bisogno abbiate pazienza per chi mi segue ma io devo sempre comunque fare questa introduzione quando trovate il segno a vuol dire anastrofe solea creder lo mondo lo mondo solea creder bisogna fare una costruzione differente da quella che si trova normalmente in prose quando trovate api e una poco pe vocalica invece di credere creder quando trovate una ilunga e una jean beman e voi sapete qual è la definizione di questa figura retorica ciprigna il folle amore raggiasse vedete che la proposizione termina a metà o alla fine del verso successivo cerco di essere un pochettino più veloce delle altre volte per ridurre i tempi della registrazione solea creder lo mondo in suo pericolo che la bella ciprigna il folle amore raggiasse volta nel terzo epiciclo solea abbiamo una caduta della labiale invece di soleva il mondo era abituato a credere naturalmente a suo danno pericolo c'è una sincope pericolo che la bella ciprigna che la bella ciprigna per antonomasia la bella ciprigna afrodite venere perché venere la mitologia ce la fa nascere in cipro che la bella ciprigna afrodite quindi in un certo senso abbiamo anche una perifrasi avrebbe potuto dire afrodite oppure venere raggiasse il folle amore vi ricordo sempre questo raggio da che cosa deriva radio vuol dire bacchetta guzza quindi da lì raggio e poi in forma traslata vuol dire infondere infondere tutto intorno come fanno i raggi del sole il folle amore in l'amore sensuale volta muovendosi nel terzo l'epiciclo e il cielo nella prospettiva tolemaica perché non pur a lei facevano onore di sacrificio e di votivo grido le genti antiche nell'antico errore dunque ci dovrebbe continuare però cominciamo a fermarci qui qualcuno mi ha già fatto notare che io mi fermo laddove non dovrei fermarmi ma io qui non sto ripeto declamando io qui sto cercando di spiegare si declama una poesia un'opera poetica solo nel momento in cui la si capisce altrimenti diventa un bronzo risonante o un cembalo squillante parole che non si capiscono non si intendono perché pur e al valore di soprattutto essere un apocope e anche un riferimento al latino pur e latino vuol dire semplicemente rafforzativo perché non solamente facevano di nuovamente caduta dell'arabiale onore di sacrificio e di voti le genti antiche nell'errore antico vedete antico antiche genti antiche antico errore potrebbe essere anche un chiasmo in ogni modo in ogni caso è una parolomasia quindi un bisteccio qui bisognerebbe fare la costruzione perché ci troviamo in una anastrofe non solamente poi 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 perché le genti antiche nell'errore antico che è evidentemente inteso come il credo pagano non facevano onore di sacrificio e di voti e di votivo grido e di preghiere solamente a lei e il discorso continua ma Dione onoravano, onoravano Dione che era sua madre e Cupido che era suo figlio e qui c'è un riferimento al maestro cioè a Virgilio nell'Eneide quella per madre sua questo per figlio quella Dione era sua madre la madre di Venere questo lo onoravano perché era figlio di Venere e dice anche il sedete in grembo a Dido io vi ho riportato il testo dell'Eneide laddove Cupido nelle vesti di Ascanio si siede nel grembo di Didone che viene infiammata d'amore per Enea Eneide 1 657 660 leggetevelo cerco di essere ah ricordatevi soltanto che Citerea e di nuovo per Antonomasia prima abbiamo parlato di Ciprinia Citerea per Antonomasia di nuovo viene attribuita a Venere perché nella visione mitologica sembra che fosse la prima isola che Venere avesse toccato a nuoto come vedete Pro Dulci Ascanio Venia dal posto del Dulci Ascanio Cupido si presenta e donis furente vincente ad regina matco e bossi bu simplici dignem e vedete incendi con i suoi doni con le sue arti la regina furente furente d'amore che impazzisce per amore per Enea in modo particolare nell'Eneide 1 718-719 interdum grevio foveti insciadido insidat quantus misere Deus abbiamo la traduzione ed intanto lo scalda col petto di Don ignara quale grande Dio si posi sulla misera perché ripeto Cupido aveva preso l'aspetto di Ascanio figlio di Enea e da costei cioè da venere un Dio principio piglio pigliavano il vocabol della stella che il sol vagheggia or da coppa or da ciglio allora e da costei da venere dove io piglio il principio prendo l'inizio di questo canto le genti pigliavano piglio pigliavano parannomasia il vocabol il nome della stella venere che vagheggia il sole qui c'è tutto a chi interessa poi a chi non interessa lo salta no perché vagheggiare vuol dire mirare con diletto perché vagheggia deriva da vagus errante poi in modo traslato chi erra è predicato anche di colui che è volubile in amore erra anche in amore e poi a sua volta questo significato assume il valore di bramoso desideroso desideroso e dunque vagheggiare mirare con bramosia con desiderio perciò che ammira che mira il sole or or è un polisindeto or da coppa coppa la nuca or da dietro per estensione or da ciglio davanti e se è di dietro o davanti prende il nome di dietro di vespero oppure se davanti alla mattina di lucifero vedete che è tutta una lunga perifrasi per indicare il nome di questa stella il nome di questa dea che dà nella visione mitologica il nome al terzo cielo io non mi accorsi del salire in ella ma ad esservi entro mi fea sai fede alla donna mia che vedi far più bella io non mi accorsi di salire al terzo cielo mi raccomando una cosa in ella siamo nel trecento era possibile era possibile sarebbe un errore utilizzarlo come un complemento indiretto ella può essere solamente soggetto in ella qui esprime un complemento di mutalluogo quindi mi raccomando in un tema non scrivete mai in ella con ella per ella ella fa solo da soggetto dunque mi de ma ad esservi entro mi fe assai fede mi fe mi fe mi fece fe abbiamo un apocope sillabrica assai fede di esservi dentro a questa stella quando io vidi la mia donna cioè Beatrice diventare ancora più bella la bellezza è la caratteristica del terzo cielo attenzione sempre che la bellezza nelle prospettive dei cieli di Dante non è una bellezza puramente esteriore ma è una bellezza che rivela una luce una bellezza interiore ed è sempre una bellezza che deriva dalla contemplazione diretta di Dio da parte di queste anime beate qui abbiamo già subito una similitudine e come in fiamma favilla si vede e come in voce voce si discerne quando una è ferma e altra va e riede di Dio in essa luce altre lucerne muoversi in giro più e meno correnti al modo credo di loro viste interne abbiamo una similitudine con alliterazione fiamma favilla voi pensate ad una fiamma che dà luce un falò dentro a questa fiamma si vedono le faville allora come in una fiamma si possono vedere le singole faville quindi similitudine alliterazione ma anche anafora perché e come in e come in e come in voce questa è una metonimia è una metonimia perché nel primo caso la voce si intende un coro e come in un coro quindi la singolo al posto del tutto invece qui vedete che questo voce e voce sono predicati in modo equivoco qui voce inteso come coro voce qui inteso proprio come voce singola e come in un coro si discerne si intendono le singole voci in una in un coro polifonico quindi anche qui abbiamo una paronomase o visticcio oppure si potrebbe anche vedere un chiasmo ma in ogni modo qui siamo sempre lì ci sono delle figure retoriche che sono possono essere intese in un modo o nell'altro quando una è ferma e altra va e riede mentre una voce è ferma un coro polifonico e l'altra va e ritorna riede da ridire ritornare io vivi in essa luce e altre lucerne quindi in questa luce in questa questo spettacolo vivi altre luci quindi come la favilla dentro la fiamma muoversi in un giro più o meno correnti muoversi una danza più o meno veloci al modo credo di loro viste interne e questa velocità probabilmente pensa Dante rivela la loro rivelava la loro beatitudine le loro viste interne cioè in quale misura esse potessero godere della beatitudine della contemplazione divina di nuovo ricordatevi la serie di similitudini che spesso sono presenti nel paradiso ce lo disse già Dante nei primi canti cioè la difficoltà di poter comunicare a noi quella visione viene in qualche modo temperata dalle metafore dalle similitudini in modo particolare perché difficile era in qualche modo descrivere quell'esperienza di fredda nube non disceser venti o visibili o no tanto festini che non paressero impediti e lenti devo andare avanti è evidente ma mi fermo qui è una comparativa c'è di nuovo una similitudine ma una similitudine in litote cioè non è in simmetria alla proposizione principale sta negando quello che poi affermerà venti non discesero mai da una nube fredda nella prospettiva fisica di allora i venti potevano essere visibili erano i lampi e i tuoni secondo la fisica aristotelica i lampi e i tuoni erano determinati da venti oppure no erano i venti che sentiamo ma non vediamo tanto festini festino slatino tanto veloci che non sembrassero lenti e addirittura impediti nel loro movimento a chi avesse quei lumi divini veduti a noi venire lasciando il giro pria cominciato in gli alti serafini a chi avesse veduto venire a noi quei lumi divini quindi intende una visione possiamo mettere l'iperbole non so se qui c'è un'iperbole o proprio volesse dire e in qualche modo comunicarci una esperienza superiore a qualsiasi esperienza terrena materiale a chi avesse venuto muoversi sostanzialmente quelle luci divine che lasciavano il giro cominciato negli alti serafini che avevano lasciato il giro quindi le altezze là nell'Empireo pria deriva da prius latino cominciato negli alti serafini il serafini è l'ultimo con angelico il più alto quindi non è che il il loro luogo il loro posto era sui serafini il serafini è di nuovo una metonimia là dove c'erano i serafini da là queste anime questi spiriti queste luci sono partite per andare incontro al terzo cielo a Dante ricordatevi sempre che gli spiriti che incontra Dante scendono nei cieli che rivelano la loro grazia e la loro gioia ma dove esse si trovano è l'Empireo non vivono nei singoli cieli ma nell'Empireo dove contemplano Dio in una prospettiva in una misura direttamente proporzionale alla loro santità e dentro a quei che più innanzi appariro sonava Osanna sì che unque poi di riudir non fu il sanza desiro dunque e dentro a queste luci che apparirono a poco per sillabia più davanti si sentiva attantare Osanna l'abbiamo già visto il significato di Osanna è un termine ebraico che vuol dire Osalva e lo troviamo nel Nuovo Testamento nei Vangeli no? sì che unque è un termine latino vuol dire unquam vuol dire mai mai poi fui senza desiro non fui senza desiro di riudire e qui di nuovo c'è un alitote nega perché vuole affermare nel senso che Dante dice a tal punto questo canto era gioioso e gradito alle mie orecchie che poi non esistette mai un momento in seguito in cui il mio cuore non esprimesse il desiderio di riudirlo quindi sempre ci fu poi questo desiderio dopo aver potuto godere di questa esperienza qui come al solito desiderium l'abbiamo visto più volte deriva dal latino desiderium poi c'è un cambiamento nel tempo nell'esperienza provenzale desirium vedete che c'è una sincope cade il de e poi desiro eccetera indi si fece l'un più presso a noi e solo incominciò tutti sem presti al tuo piacere perché di noi ti gioi perciò da questo momento si fece uno più vicino a noi e cominciò a parlare di tutte queste anime solo una parla tutti sem presti dunque tutti sem è una pocope perché va via la o però c'è anche una sincope perché va via anche la i tutti siamo presti presto st'attenti latino al tuo piacere alla tua soddisfazione perché possa tu gioire di noi perché tu attraverso le nostre parole possa gioire e noi gioiremo lo dirà poi in seguito ancora di più di quello che gioiamo perché siamo felici di poterti accontentare siamo nel terzo cielo è amore è carità pura quella cioè di poter soddisfare alle tue necessità spirituali e quindi di poter chiarire i tuoi dubbi noi ci volgiamo coi principi celesti d'un giro e d'un girare e d'una sete ai quali tu del mondo già dicesti noi ci volgiamo da volvere latino muoversi in giro noi ci volgiamo con i principati siamo al terzo coro degli angeli principati celesti noi siamo con loro attenzione a questo polisindeto d'un giro e d'un girare e d'una sete sono metafore giro esprime lo spazio girare il tempo la sete la carità quindi con l'un latino che vuol dire una sola noi ci muoviamo assieme ai principati in una sola in una in una sintesi unica di spazio di tempo e d'amore ai quali tu del mondo già dicesti ai quali cioè ai principi celesti stiamo facendo riferimento alle rime alla 79 che poi viene spiegata nel convivio voi che intendendo il terzo cel muovete infatti viene riportato questo verbo questo scusate questo verso cioè sostanzialmente l'anima parlando dei principati ci dice di questo corangelico del terzo cielo tu hai già parlato nelle tue opere hai già parlato nelle rime hai già parlato nel convivio voi che intendendo il terzo cel udite il ragionare che nel mio core chi non so dire altrui si mi parnovo l'unica differenza è che il coro angelico posto là nelle rime era il coro dei troni non dei principati celesti quindi dice abbiamo i principati ai quali tu nel mondo già dicesti due punti e fa riferimento alla rima voi che intendendo il terzo cel muovete e sem si pieni d'amor che per piacerti non fia men dolce un poco di quiete e noi sem di nuovo come prima qui poi ci sono quattro apocope qui c'è anche una sincope ho scritto incope mettiamo una s eccola che per poterti accontentare per poterti fare gioire come abbiamo detto sopra non fia men dolce non ci sarà meno dolce fermarci anzi di nuovo in litote non fia men dolce proprio il contrario ci sarà ancora per noi più gioia fermarci perché fermandoci e rispondendo alle tue domande il nostro amore la nostra carità non potrà altro che alimentarsi ancora più oltre poscia parlerà direttamente agli spiriti ma qui cerca sempre l'approvazione di Beatrice poscia deriva da poste a latino dopo che i miei occhi si fuor abbiamo fuor o no abbiamo una poco a poco per sillabica in più c'è questo o che fa da epentesi dopo che i miei occhi si furono offerti quindi si rivolsero a Beatrice reverente ricordatevi sempre reverente Dante all'approvazione di Beatrice per poter parlare con l'anima che gli si era rivolta e che lo aveva invogliato a porre finalmente le sue domande le sue e tutte le sue incertezze ecco si rivolsero alla luce metafora quindi allo spirito che mi aveva promesso così tanto anastrofe e cosa dice Dante eh chi siete fu un'epentesi una e in più la voce mia impressa di grande affetto affetto dall'attivo affettus che vuol dire desiderio desiderio di conoscere e quanta e quale vi dio lei far più per allegrezza nuova che sacrebbe quando parlai alle allegrezze sue punto esclamativo quindi questa è una principale esclamativa e e abbiamo un polisinteso polisinteto più e abbiamo una e in più quindi una epitesi e poi un iperbato io 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 vidi lei far più e quanta e quale io vidi lei far più e quanta e quale io la vedi diventare più bella sia nella quantità di luce che si espande ancora di più sia nella intensità qualis quantus e qualis latino quantità qualità per una nuova allegrezza che si accrebbe ancora di più ecco io qui ho sempre avuto dei dubbi da un punto di vista teologico filosofico cioè io mi sono chiesto più volte come queste per me è un difetto nella prospettiva dantesca come possono queste anime essere accrescersi di una nuova allegrezza quando della contemplazione divina sono ormai pacifiche non possono avere ottenere provare qualcosa di superiore eppure Dante più di una volta insiste su questa reazione degli spiriti che accrescono la loro bellezza la loro luce abbiamo detto nella qualità e nella quantità nova nous no un latino quando parlai dunque questo quanta e quale probabilmente arriva dalle neide due duecentosettantaquattro eimi quali serat parliamo Enea che incontra Ettore quantus mutatus abilo Ettore qui redit exuvias indutus Achille qualis era quantum quale era e quanto era mutato da quell'Ettore che ritornò vestito delle spoglie di Achille eimi oimè così fatta mi disse il mondo m'ebbe giù poco tempo e se più fosse stato molto sarà di mal che non sarebbe dunque vediamo di dare alcuni riferimenti storici abbiamo Carlo II D'Angio padre di questo Carlo Martello D'Angio c'entra niente con Carlo Martello il Carlo Linge eccetera Carlo Martello D'Angio quindi Carlo II è padre di Carlo Martello D'Angio Carlo II Roberto è fratello di Carlo Martello D'Angio quindi figlio di Carlo II D'Angio Carlo Martello D'Angio e Carlo II Roberto erano anche figli di Maria d'Ungheria dunque parla Carlo Martello D'Angio che vedete muore abbastanza giovane 71 81 91 sono a 24 anni era un uomo amante della pace e delle arti e probabilmente l'anno prima della morte Dante lo aveva incontrato a Firenze e forse Dante era sceso anche a Napoli e aveva incontrato a Napoli ma di questo secondo incontro gli storici non sono tutti d'accordo entrambi si erano piaciuti si erano stimati e quindi Dante lo ricorda con affetto e le stesse parole di Carlo Martello sono parole di affetto nei confronti di Dante allo stesso tempo Carlo Martello rimprovera sia suo padre sia suo fratello perché non all'altezza della situazione Carlo II D'Angio non piace a Dante perché è amico di Bonifacio VIII e sotto il governo di Carlo II D'Angio a causa delle angherie che furono consumate da parte degli angherini contro i siciliani ci furono i vesperi siciliani del 1282 a Palermo Carlo II Roberto non piacque neppure questi a Dante perché è nemico di Anrico VII imperatore poi vi ricordate nel De Monarchia che per Dante esiste un solo sovrano un'unica autorità in tutta Europa e quella dell'imperatore quindi non potevano i francesi la cara casa Angioina combattere un'autorità voluta direttamente da Dio cioè l'autorità di Enrico VII quindi noi vediamo in queste parole di Carlo Martello D'Angio una in qualche modo un rimprovero rivolto molto velato siamo nel paradiso un rimprovero rivolto al padre rivolto al fratello vedremo anche per quale ragione ma vediamo in Carlo Martello D'Angio secondo alcuni critici una una qual come potremmo definire tristezza quasi che fosse ancora legato al mondo mortale quasi che la gioia della contemplazione divina non avesse potuto in qualche modo colmare quel che Carlo Martello non aveva potuto ottenere per la sua morte repentina nel mondo quindi un paradiso velato da questa nostalgia da questo essere rimasto in potenza e che non si ebbe per motivi storici per motivi di salute per motivi che si sono verificati non si ebbe potuto portare all'essere vediamo quindi questa strofa il mondo mebbe giù per poco sono vissuto fino a 24 anni ma se fossi potuto vivere più a lungo non sarebbe molto di mal che sarà non sarebbe molto di mal che sarà iperbato molto probabilmente il male che c'è stato e che ci sarà con me regnante non sarebbe accaduto dopo spiegherà le ragioni la mia letizia mi tiene in celato che mi raggia dintorno e mi nasconde quasi animale di sua seta fasciato la gioia letizia metafora la letizia qui è la beata contemplazione e quindi la condizione di beato mi tiene nascosto a te e questa letizia mi raggia tutto intorno mi illumina tutto intorno e mi nasconde ai tuoi occhi e qui abbiamo una similitudine quasi come un baco che è fasciato dalla sua seta e qui viene ricordato l'affetto vicendevole che Dante provò per questo giovane e l'affetto che questo giovane provò per Dante allora entrambi molto giovani assai mamasti e avesti benonde che se io fossi giustato io ti mostrava di mio amor più oltre che le fronde tu mi hai stimato ti sei legato da me con grande affetto e avesti benonde e ne hai avuto bene ragione perché io se fossi vissuto ti avrei mostrato che il mio amore sarebbe andato oltre le fronde al di là delle fronde metafora e beh ci sono i fiori e poi dopo i fiori ci sono i frutti avresti visto quanto ti sarei stato riconoscente per la tua amicizia quella sinistra riva che si lava di rodano poi che misto con sorga per suo signore a tempo mi aspettava per la casa da cui proveniva Carlo Martello sarebbe dovuto diventare signore della Provenza eccola qui la Provenza e vedete il rodano quindi la Provenza che si mischia con il fiume Sorga ecco ha dalla la sua riva sinistra questa terra quindi è una perifrasi si intende Provenza lavarsi quella riva sinistra che si lava è una metafora perciò quella terra mi aspettava come suo signore sarei diventato signore di Provenza ma non solo e quel corno d'Ausonia il corno d'Ausonia è la parte meridionale dell'Italia abitata un tempo dagli Ausoni che si imborga di mare di Gaeta e di Catona da ove tronto e verde in mare sgorga e sarei diventato signore anche del regno di Napoli parliamo di corno d'Ausonia c'è una parte meridionale che si imborga che ha come città chiave Bari abbiamo un triangolo Bari Gaeta Catona che allora probabilmente aveva un ruolo importante di oggi e che è delimitata a nord dai fiumi Tronto e verde e che sarebbe lì di Garigliano anche questa terra mi aspettava come signore ma non basta fulgeami già in fronte la corona di quella terra che il Nanubio riga poi che le ripete tedesche abbandona e avrei ereditato anche quella corona di quella terra che il Nanubio riga riga da rigare sorcare bagnando termine latino dopo che ha abbandonato le rive tedesche le rive tedesche ed eccolo qua l'Ungheria la vedete così faccio un po' di geografia sarà da quasi 25-30 anni che non insegno più vedete Danubio taglia proprio l'Ungheria nel bel mezzo e poi non solo sarei stato anche signore della Sicilia qui penso che non sia necessario riportare la cartina geografica e la bella Trinacria che caliga tra Pacchino e Peloro che riceve da Euro maggior briga caliga caligare esser coperto di nebbia e la bella Sicilia Trinacria perché ha tre punte che caliga che è coperta di nebbia tra Pacchino che sarebbe capo passero a sud e Peloro capofaro a nord siamo nella costa orientale sopra il golfo dove troviamo appunto l'Etna quella riva che riceve da Scirocco Euro quindi da Est maggior briga maggior forza briga gallicismo e non perché una prospettiva mitologica per Tifeo che secondo la tradizione mitologica era stato sepolto sotto il monte per Tifeo ma per nascente Solfo attesi avrebbe i suoi regi ancora nati per me di Carlo e di Ridolfo dunque quindi quella terra che non si oscura per opera di Tifeo come pensavano gli antichi ma per le esalazioni solforose dell'Etna avrebbe attesi ancora i suoi regi i suoi reali i suoi re nati per me di Carlo e di Ridolfo quindi nati da me nella discendenza di Carlo mio padre e di Ridolfo mio suocero se ma la signoria che è sempre a cora di popoli soggetti non avesse mosso Palermo a gridare mora mora se una cattivo se un cattivo governo malus latino che è sempre a cora a cora e ad più cor colpire al cuore che sempre colpisce al cuore i popoli soggetti non avesse mosso alla fine Palermo Palermo è una metodinia perché non è Palermo ma semmai i palermitani a gridare muoia muoia mora da morior latino e adesso abbiamo una critica nei confronti del padre e del fratello e se mio frate questo antivedesse la vara poverità di Catalogna già fuggeria perché non gli offendesse e se mio fratello frate fratres latino antivedesse questa cosa riuscisse a antivedere questa verità fuggirebbe condizionale mia la povertà avara di Catalogna gli storici ritengono che gli angioini si siano serviti della Catalogna per trovare dei cavalieri per trovare degli uomini che li aiutassero a governare ma la Catalogna è povera e quindi è sempre avida del denaro e questa avarizia determinò poi la reazione dei popoli soggetti e le avrebbe quindi li avrebbe fuggiti e le fuggirebbe per non offendere i popoli che la mia casata dovrebbe dominare con liberalità e non con avidità che veramente provveder bisogna per lui o per altrui sicca a sua barca carcata più di un carco non si ponga un allotropo ponga carcata più di un carco cronomasia barca è una metafora perché veramente bisogna provvedere bisogna fare in modo che per lui o per altrui o attraverso di lui o attraverso l'aiuto di altri si si agisca in modo tale che la barca cioè il regno sua barca non si ponga carcata più di un carco non venga posta caricata più di un carco cosa si intende? si intende che le tasse e le angherie consumate su un popolo alla fine diventano carichi insopportabili e uno si aggiunge all'altro finché alla fine i popoli si rivellano la sua natura che di larga parca discese avria mestiere di tal milizia che non curasse di mettere in arca allora parcus ricordatevi che vuol dire economo ma col passato del tempo assume il valore di avaro spilorcio e ricordiamoci anche che c'è questo mestiere mestiere che deriva da ministerium col valore di servizio allora la sua natura che discese parca di larga la natura della mia casata che divenne parca spilorcia da larga e liberale qual'era avria avria mestiere di tal milizia avria avrebbe bisogno di un servizio di una milizia milizia intesa qui non come soldati ma come collaboratori nel governare una milizia una milizia tale che non si preoccupasse solamente abbiamo una perifresi di mettere in arca di far bottega come si suol dire oggi di mettere denare nel forziere l'arca e la cassa e il forziere ha bisogno di collaboratori veramente generosi non preoccupati solo di far soldi vedete che le cose si ripetono nei secoli e negli anni non è che i nostri governanti i nostri politici si occupino di altro se non di mettere in arca alla maniera delle milizie che arrivavano dalla Catalogna e a un certo punto dopo queste riflessioni affrontiamo l'argomento più interessante da cui arriverà anche un insegnamento di carattere pedagogico interessantissimo però chi credo che l'alta letizia che il tuo parlarmi infonde signor mio lao e ogni event si termina e si inizia per te e si veggia come la veggio grata ne più e anche questo caro perché il discerni rimirando in Dio poiché credo che la gioia immensa che mi infonde il tuo parlare o mio signore a termine inizio lao ove a termine inizio ogni bene e tu la veda contemplando in Dio come la vedo io ascoltando le tue parole mi è particolarmente gradita e anco dunque io qui adesso ho dimenticato alcune cose questa è una perifrasi no? la ove si termina e si inizia quindi la ove ogni bene a termine e inizio parliamo di Dio una perifrasi poi veggia veggio che si ripeti in paronomasia abbiamo due allotropi e ancora anco deriva da anc oram ancora che poi con una poco vesillabica rimane anco e ancora mi è gradita questa cosa perché tutto ciò di cui tu mi parli tu lo discerni mirando contemplando Dio però le tue parole a un certo punto mi hanno suscitato un dubbio fatto mai lieto e così mi fa chiaro poiché parlando a dubitar mai mosso come esser può di dolce semi amaro mi hai reso fatto fa in un momento una visione in simmetria no? mi hai reso felice e così mi fa chiaro e allora rendimi chiara anche un'altra cosa clarus nel senso di manifesto distinto evidente poiché le tue parole con le tue parole mai mossa a dubitare mai fatto nascere un dubbio come esser può di dolce seme amaro come può derivare l'amaro da un seme dolce ossia tu mi hai detto che che la tua discendenza liberale generosa a un certo punto diventa spilorcia come è possibile che da un dolce seme possa naturalmente in metafora seme dolce amaro possa dare come come possa un dolce un seme dolce dare come effetto l'amaro e questa riflessione nasce dal nuovo testamento dai vangeli dove c'è scritto così ogni albero buono produce frutti buoni ogni albero cattivo produce frutti cattivi un albero buono non può produrre frutti cattivi né un albero cattivo produce frutti buoni questo è Matteo ma lo stesso concetto viene ripetuto in Giacomo 3,11,12 allora se tu contempli tutto in Dio mi saprai dare questa risposta come mai perché visto che nella rivelazione è scritto il contrario questo io a lui ed egli a me se io posso mostrarti un vero a quel che tu dimandi terrai lo viso come ti è lo dosso queste sono furono le mie parole e Carlo Martello mi risponde se io ti posso spiegare la verità alla tua domanda allora tu terrai lo viso terrai la vista come tieni lo dosso dosso è il dorso come tieni la schiena l'avrai diritta la vista però è chiaro in metafora non stiamo parlando di una vista reale ma una conoscenza quindi viso visus latino vista intesa in senso metaforico e c'è quindi una oltretutto una similitudine io spiego a te la verità tu la recepisci allora ecco la tua conoscenza sarà dritta come la tua schiena lo ben che tutto il regno che tu scandi volge contenta fa esser virtute sua provvedenza in questi corpi grandi lo ben che tutto il regno volge contenta siamo di nuovo in una perifrasi cioè dio il bene che volge contenta il regno volgere vuol dire far girare contenta tenere insieme conserva sempre dal verbo contenere latino questo regno che tu scandi il latino anche qui che tu stai salendo fa esser virtuta sua provvedenza fa sua provvidenza esser virtute fa diventare la sua virtù per scusate fa diventare la sua provvidenza virtù perfezione in questi corpi grandi in questi corpi celesti ne aveva già parlato in altro luogo Dante ossia i corpi celesti ricevono la virtù dai cuori angelici che a loro volta la ricevono direttamente da Dio e questa perfezione viene comunicata queste forme alla terra che da esse viene modellata e non pur le nature provvedute sono in la mente che è da sé perfetta ma esse insieme con la loro salute e non solo pure latino non solamente le nature sono provvedute nella mente che è da sé perfetta e Dio non provvede solamente a realizzare questo mondo nella sua perfezione ma insieme anche alla salvezza delle anime salus salutis alla maniera latina perché quantunque quest'arco saetta disposto cade a provveduto fine si come cosa in suo segno diretta quantunque qui ha valore di latino del latino qualsiasi cosa che arco sono i cieli che hanno ricevuto la virtù dalle intelligenze angeliche che l'hanno ricevuta direttamente da Dio l'arco è saetta è una metafora saetta sagitta latino e vuol dire freccia quindi per cui tutto quello che i cieli comunicano saettano comunicano alla nostra terra cade ben disposto e ad un fine ben preciso si come cosa in suo segno diretta sia come cosa diretta in suo segno signum latino alla sua meta al suo fine e qui evidentemente Dante si è di fatto maso da quino summa parte prima questione 22 articolo 1 in rebus ante minveni tur bonum nelle cose poi si trova il bene non solo per quanto riguarda la sostanza delle cose non solo per quello che è ma anche in quanto è ordinato ad un fine ben preciso e in modo particolare il fine ultimo che è la bontà divina è un pensiero ripreso da Aristotele il fine ultimo rimane sempre il motore immobile soltanto che quel motore di Aristotele è immobile non si interessa del mondo invece il dio cristiano è un dio che è presente Yahweh che è presente vicino al suo popolo e vicino ai suoi figli in modo particolare attraverso l'incarnazione in Cristo se ciò non fosse il cielo che tu cammine producerebbe sì i suoi effetti che non sarebbero arti ma ruine se non fosse se non fosse così il cielo che tu stai percorrendo sì darebbe i suoi effetti ma questi effetti non sarebbero produzioni positive ma delle vere proprie distruzioni delle vere proprie rovine artis opera d'arte produzione mentre invece ruina rovina e ciò esser non può se gli intelletti che muovono queste stelle non sono manchi e manco il primo che non li ha perfetti e questa cosa non può essere se gli intelletti che muovono queste stelle non sono per esserci un alitote anche qui non sono manchi non sono imperfetti non può essere questa cosa perché sostanzialmente gli intelletti sono perfetti ed è perfetto anche Dio che li ha resi perfetti vuoi tu che questo ver più ti si imbianchi vuoi tu che questa verità sia ancora più chiara si imbianchi è una metafora e io non già che è impossibile che la natura in qualche uopo stanchi non già non è necessario perché io veggio all'otropo io vedo che è impossibile che la natura stanchi stanchi da stagnare che venga meno in qualche uopo uopo da opus est in quel che è necessario e aristotele infatti ci dice natura nonquam deficit necessaris la natura non viene mai in meno nelle cose necessarie ondelli ancora ordi sarebbe il peggio per l'uomo in terra se non fosse cive dimmi ancora sarebbe una situazione peggiore per l'uomo sulla terra se non fosse cittadino cioè se non vivesse la vita sociale l'uomo è un essere socievole e sociale e quindi non essere in una condizione di cittadino sarebbe una cosa peggiore infatti Dante risponde sì risposi io e qui ragionno un cheggio sì io risposi io qui non ti chiedo una ragione all'otopo e può telli essere se giù non si vive diversamente per diversi uffici non se il maestro vostro vengli scrive e può essere questa cosa se giù cioè sulla terra non si vive responsabilmente in diversi uffici ufficio ufficio vuol dire compito incarico ruolo ognuno ha il suo ruolo prima di Aristotele lo diceva già Pratone nella Repubblica questa è la giustizia la giustizia è quella per cui ognuno deve compiere il proprio dovere secondo il ruolo che occupa non qui è sottinteso è possibile non è possibile se il maestro per antonomasia Aristotele vostro ben scrive a questo proposito e lo scrive sia nella politica che nel de anima io ho riportato un passo della politica dove Aristotele rivela questo pensiero è necessario in primo luogo che si uniscono gli esseri che non sono in grado di esistere separati l'un dall'altro ecco la la condizione sociale socievole dell'uomo per esempio la femmine il maschio visto dalla riproduzione e chi per natura comanda quindi c'è chi deve comandare chi è comandato al fine della conservazione in realtà l'essere che può prevedere con intelligenza è capo per natura è padrone per natura mentre quello che può col corpo faticare è soggetto quindi a natura schiavo insomma ognuno ha un suo ruolo nella società si venne deducendo infino a quinci pocia conchiuse dunque esser diverse conviene di vostri effetti e le radici così deducendo da pensiero a pensiero Carlo Martello arriva alla conclusione poscia posta alla fine dunque conviene attenzione convenire è giusto è naturale conviene che ci siano diverse radici dei vostri affetti quindi è necessario che ci siano diverse cause che determinano gli effetti perché se fossimo tutti uguali fossimo tutti poeti fossimo tutti guerrieri fossimo tutti muratori ebbene non si potrebbe realizzare questo trasporto sociale che c'è in uno stato in una repubblica e le radici evidentemente è una metafora e la costruzione di Pernato per cui nasce Solone e altro Cerse altro Melchisedec e altro quello che volando parlare il figlio Perse perciò uno nasce legislatore Solone legislatore di Atene e un altro Cerse guerriero per Antonomasia e un altro Merchisedec sacerdote dove troviamo Genesi 14-18 e un altro artista nel senso che possiede un'arte e qui c'è una perifresi si sta parlando di Dedalo che perse il figlio volando per l'area latino è un latinismo quindi perse il figlio volando stiamo parlando di Dedalo che aveva costruito a Creta siamo nel 1500 a.C. un labirinto io insisto nella mia prospettiva perché voi se andate a cercare ovunque Dedalo e Icola sono frutto della mitologia io non ci credo io credo che molto sia stato aggiunto a questi due personaggi ma non vedo per quale motivo se Leonardo da Vinci tenta di volare viene considerata una verità storica se invece si attribuisce questa cosa a Dedalo ebbene viene considerata invece semplicemente una leggenda e frutto di invenzione io penso che Dedalo fosse un grande artista non artista nel senso come lo intendiamo noi ma che possedesse l'arte dello scultore l'arte di inventore perché non potrebbe essere un primo Leonardo da Vinci punto interrogativo questo detto tra parentesi la circolar natura che suggello alla cera mortal fa ben sua arte ma non distingue l'un dall'altro stello la circolar natura cioè i cieli che suggello 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 che vuol dire impronta che è impronta perché dai cieli scendono le forme che modellano la materia alla cera mortale una metafora quindi in questo caso che è impronta che da un segno a quella cera che poi realizzerà la vita le condizioni di ogni uomo fa bene la sua arte ma non distingue l'un dall'altro stello stello è ospizio un luogo dove si abita quindi il contenitore apposto del contenuto non è che il figlio del re di colui che ha regnato che ha governato debba necessariamente essere destinato al governo non necessariamente il figlio di un poeta deve essere poeta quindi quest'arte scende attenzione che qui c'è un insegnamento pedagogico di altissimo livello no? quindi Quinci addiviene che Esau si diparte per seme da Jacob e viene Quirino da civil padre che si rende a Marte Quinci da Inchinde di qui addiviene e consegue che Esau questi qua erano figli di Isacco Giacobbe Abramo, Isacco e Giacobbe Isacco padre di Esau e Giacobbe addirittura Esau e Giacobbe erano gemelli Esau nasce prima di Giacobbe Giacobbe esce dal seno della madre tenendo il calcagno di Esau eppure pur essendo gemelli pur essendo figli entrambi di Isacco Esau si diparte partire distingue si allontana nel concepimento da Giacobbe e la stessa cosa accade per Romolo che nasce probabilmente da un padre vile senza alcun livello aristocratico al punto che si dovette così dice Livio 1.4 come dire rivolgere a Marte la paternità finché Romolo fosse degno di una tradizione che potesse in qualche modo nobilitare tutta la progenie romana qui c'è Genesi 25 21 27 la storia di Esau e di Giacobbe natura generata il suo cammino simile farebbe sempre a generanti se non vince sempre il provvedere divino una natura generata farebbe il suo cammino simile sempre ai generanti quindi se la natura non fosse guidata ad una provvedenza divina il figlio sarebbe sempre uguale al padre ma non è così or quel che te era dietro te davanti ma perché sappi che di te mi giova un crollario voglio che t'ammanti ora quello che era dietro è una metafora quello che tu prima non avevi capito adesso ce l'hai davanti ben spiegato ma perché tu sappia che la mia la mia gioia si prende un vantaggio nell'amarti nel prestarti questo servizio di carità ti voglio ancora spiegare una conseguenza di queste cose e voglio che tu t'ammanti di questo corollario che tu riesca a capirlo a fondo e qui abbiamo la lezione di alta pedagogia e come vedete riesce Dante a sintetizzarla in dieci versi sempre natura se fortuna trova discende discorde a sé come come ogni altra semente fuori di sua region fa ma la prova sempre la natura quindi la natura umana se trova una fortuna discorde da sé trova una condizione naturale discorde dai propri fini e una similitudine come ogni altro seme fuori dalla sua terra beh prova fa una mala prova ha un effetto negativo similitudine ogni pianta ha bisogno del suo terreno i rododendri hanno bisogno di un terreno acido e se io non do un terreno acido ecco che il rododendro non riesce a vivere muore così le armiche e se il mondo laggiù ponesse mente al fondamento che natura pone seguendo lui avria buona la gente e se il mondo se la gente laggiù in terra facesse attenzione normalmente ponesse pone per un omasi in chiasmo al fondamento che la natura pone quindi al principio posto dalla natura per cui ogni seme deve poter avere un terreno adatto al suo sviluppo seguendo lui seguendo questo fondamento avria buona la gente potrebbe rendere buona la gente invece le cose non sono così ma voi torcete alla religione tal che fiarato a cignarsi la spada e fate re di tal che dà sermone ma voi fate diventare religioso uno che è nato per cignosi la spada una perifrasi per essere un militare e fate diventare re invece chi ha la vocazione di un poeta di un artista qui probabilmente ci sono dei riferimenti farsi prete invece di essere soldato fa riferimento a Ludovico il padre o a Bonifacio VIII più adatti ad essere dei soldati ed essere uomini di chiesa e fate diventare re chi invece è disposto a sermoneggiare quindi sermone da ragionamento e qui probabilmente Carlo Martello fa riferimento al fratello onde la traccia vostra è fuori di strada per cui con metafora tutto la vostra vita la vostra esistenza è fuori dalla retta via attenzione che questo concetto verrà ripreso anche da Beatrice nel ventisettesimo canto alla 140 in terra non è chi governi onde si svia l'umana famiglia perché dunque guardate che questo pensiero è bellissimo le cose non funzionano perché e questo capita anche nella nostra scuola cose che sono avvenute in questi ultimi 50 anni vogliamo far diventare professore che invece è destinato a qualche cos'altro per cui gli istituti tecnici diventano licei gli istituti professionali diventano istituti tecnici e alla fine non diamo la giusta terra per una vocazione giusta e tutto viene squinternato quindi interessante quel pensiero che abbiamo considerato all'inizio quando ci dice abbiamo bisogno di governanti che non si occupino soltanto del borsellino di mettere denaro nell'arca ma è interessante questo in una prospettiva pedagogica bisogna farlo in modo tale che ogni uomo e quindi io direi di andare indietro nel tempo ogni bambino ogni ragazzo possa realizzare la propria vocazione senza essere sviato il pensiero che è suicida in una prospettiva didattica pedagogica è quella è quello perpetrato ormai da 50 anni in Italia che in nome di una falsa eguaglianza vuole tutti uguali vuole livellare tutti invece ognuno ha la sua strada ed è questa la bellezza della società questa è la ricchezza di una società ognuno deve dare quello per cui è portato è il fondamento che natura pone di una società Grazie.